Buongiorno e ben ritrovati ad Occhio ai Giornali. E' l'edizione di questo mercoledì 16 ottobre che come sempre apriamo dedicandoci al Santo del Giorno, in questo caso la Sanza del Giorno. Si tratta infatti di Santa Margherita Maria à la Coque, monaca mistica francese, vissuta nel XVII secolo, canonizzata da Benedetto XV nel 1920. Il sole sorgerà oggi alle 7.24, tramonterà alle 18.26. Lo sguardo ora al meteo. E come potete scorgere dalla grafica, sarà una giornata caratterizzata da cielo nuoloso e anche dalla presenza di foschia. Situazione praticamente stabile nel corso delle intere 24 ore, mentre sulla fronte delle temperature non si registrano scostamenti sensibili. Ed ora spazio alle notizie che trovano più ampio rilievo questa mattina sui quotidiani. La cronaca per cominciare gli approfondimenti relativi al suicidio del 15enne di Montignano bullizzato a scuola a Corriere Adriatico che titola morto a 15 anni, bulli sotto torchio, studente senigallese suicida, interrogati in caserma i presunti aguzzini. Sentiti gli amici, è vero lo tormentavano, hanno confermato di fronte agli inquirenti. Intanto il ministro Valditara manda gli ispettori nella tabella. Il Corriere Adriatico ricostruisce la vicenda, sottolineando come la procura di Ancona abbia aperto un fascicolo, l'ipotesi di reato e estigazione al suicidio, ma per ora non ci sono indagati. Avviati gli interrogatori, come già riferito, sentiti in particolare amici e compagni di scuola del ragazzo, ma anche i presunti bulli. Si tratta di tre giovani dell'Istituto Alberghiero Panzini che per i genitori della 15enne l'avrebbero spinto ad uccidersi per averlo bullizzato. Tra loro anche una ragazza. Intanto i funerali dello studente sono stati programmati per domani alle 15.30 nella parrocchia della frazione di Montignano. Disposta anche una perizia sul cellulare, sui pc e sui profili social. L'autopsia ha confermato nel frattempo una morte istantanea che è sopraggiunta dopo lo sparo avvertito da una donna che risiede nei pressi del luogo della tragedia. Lo sparo, pensavo fosse un cacciatore, riferisce alla stampa. La donna ha sentito il rumore alle 20.55. Credevo avessero ucciso un cinghiale. Altra vicenda che in questo caso tiene con il fiato sospeso, quella di cui è protagonista un 19enne residente in località Furlo, scomparso ormai da tre giorni. Riccardo, ancora nessuna traccia, titola ancora il Corriere Adriatico, Serata tra amici, prima di sparire. Le ricerche lungo il Candigliano proseguite per la terza notte. I docenti lo descrivono come un ragazzo attivo e socievole. Si tratta di Riccardo Branchini, 19 anni, residente appunto al furlo di Acqualagna. La sua auto con i vestiti all'interno era stata rinvenuta all'altezza della diga. Adesso la triste coincidenza che si è registrata nella giornata di ieri da una parte, l'arringa della difesa di Mostafa Alashli sul banco degli imputati per l'omicidio di Anastasia. Dall'altra i funerali di Ana Cristina, uccisa coltellate dal marito. Partiamo dall'arringa che è stata proferita ieri dal legale di Amrallah, Mostafa Alashli davanti alla Corte d'Assise. L'avvocato Giordano ci prova, si è difeso da un'aggressione, va assolto. Questa è la tesi sostenuta appunto dalla difesa dell'uomo. Non c'è il movente, solo eccesso di legittima difesa. Ha proseguito il legale dell'uomo che avrebbe appunto agito reagendo a quella che sarebbe stata una aggressione da parte della ragazza. Pronta la replica dell'avvocata Giuliacci che tutela Adam, il figlio della coppia. Ricostruzione della difesa non attendibile. La legittima difesa è una fantasia che non emerge da alcuna attività istruttoria, così come la provocazione è quasi oltraggiosa nei confronti della vittima. A Calcinelli invece nella chiesa di Santa Croce, ieri appunto l'ultimo saluto ad Ana Cristina, uccisa a coltellate dal marito nella notte fra il 6 e il 7 settembre scorsi. Il titolo del resto del Carlino è Mamma scusa non ti ho salvata, virgolettato, che riferisce le parole pronunciate davanti alla bara in un clima naturalmente straziante da parte del figlio della donna, ti prometto che voglio diventare più bravo a scuola. Ho preso un 9 e un 7, ha detto ancora il ragazzo davanti alla bara che custodisce le spoglie della madre, ragazzo che con gli altri due figli ha assistito alla tragedia. Ogni fatto violento, ogni tragedia sono trasformati da Dio in pace e salvezza. Questo è un passo dell'omelia pronunciata dal vescovo Andreozzi, segnalata la presenza in chiesa anche del padre e della madre del marito della donna in carcere per l'omicidio, presenza che non è stata gradita, in particolare l'avvocata Francesca Conte, che difende assieme alla parlamentare Bueno gli interessi della famiglia di Ana Cristina, ha preso posizione ritenendo tra l'altro che il ruolo dell'uomo abbia avuto un'incidenza in questi anni di convivenza di marito e moglie. La cronaca adesso è dal Corriere Adriatico. I due incidenti stradali, i due investimenti che sono avvenuti nella giornata di ieri, travolta sulle strisce da un diciassettenne in moto e quanto accaduto in via Pisacane, all'altezza delle strisce pedonali, nei pressi della stazione, una diciottenne fanese al pronto soccorso con codice giallo, dopo essere stata centrata appunto da una moto condotta da un diciassettenne, finito a sua volta a terra, ma senza riportare conseguenze, conseguenze limitate anche per quanto avvenuto in via Papiri, all'incrocio con via Rosmini, ragazzino in bici si scontra con un'auto, soccorso dal 118, andava a scuola, il trasporto in ospedale a titolo precauzionale. Venendo invece all'arresto del Carlino e ancora per quel che riguarda la cronaca giudiziaria, da segnalare l'esito della causa che era stata intentata da un uomo, rimasto invalido dopo un incidente avvenuto nel 2021, invalido dopo l'incidente, ma la vittima perde la causa. Un cinquantenne di Marotta si scontrò contro un mezzo che trasportava yacht da allora e tetraplegico. L'altro conducente è stato però assolto dall'accusa di lesioni gravissime. Lo schianto appunto avvenne nell'aprile del 2021 alla rotatoria della statale, vicino al casello di Marotta. E la cronaca giudiziaria, da ieri a nove era anche un altro capitolo, la richiesta di risarcimento danni che è stata ufficialmente avanzata dal presidente dell'Alma Juventus Fano, 1906 Salvatore Guida. Ricostruiamo brevemente quanto è accaduto in questi mesi. Il proprietario attuale dell'Alma Juventus Fano si è visto non rinnovata, la concessione dello stadio Mancini. Di seguito all'amministrazione comunale ha provveduto anche alla revoca della concessione dell'impianto della trave. Guida ritiene che così gli sia stato procurato un danno consistente, ritiene di non aver potuto sviluppare la propria attività, di cui la richiesta di un milione di euro a titolo di risarcimento danni. Tutta una serie di addebiti mossi all'amministrazione comunale da Guida, che come è noto ha fatto traslocare la squadra a Ferminiano in assenza di un campo, mentre in altre località svolge la preparazione, squadra che milita, nel campionato di eccellenza con risultati sinora decisamente modesti. Quanto invece al tema della Deng, il Corriere Adriatico riporta dell'iniziativa annunciata dall'amministrazione comunale Deng, la disinfestazione ogni 15 giorni in città, ogni 7 in scuole, strutture sportive per anziani. Le misure comunicate dal Gores, solo tre casi nell'ultima settimana, catturate zanzare ma non erano evidentemente infette. I contagi accertati, riporta ancora il Corriere Adriatico, sono nel frattempo saliti a 186, al via lo screening dei contatti sugli infetti. Un altro aggiornamento sul fronte Deng ci arriva dall'arresto del Carlino che riferisce all'interno delle pagine pesaresi come vengano effettuati ora test sui donatori di sangue, mille sacche analizzate, tutte negative, le conseguenze del maxifocolaio, la regione che fa ancora una volta il computo dei casi, Fano annuncia appunto disinfestazioni ogni 15 giorni, ogni 7 vicino a scuole e residenze sanitarie. Pesaro invece agisce preventivamente, effettuati 30 screening sui conviventi dei casi identificati, nessuno aveva l'infezione. Venendo invece agli altri temi trattati all'interno delle pagine fanesi dai due quotidiani, in particolare evidenza il parere negativo che è stato attestato dall'amministrazione comunale fanese riguardo al progetto delle super batterie a Carrara, no all'invasione delle super batterie, stop al maximpianto a Carrara, l'opera da 175 megawatt bocciata dal comune è stata proposta dalla società BES in località Torno, non lontano dalla centrale elettrica. Quella è un'area agricola, l'intervento non è compatibile, il rilievo appunto mosso dall'amministrazione comunale a sostegno di questo permesso negato. Manca la valutazione degli impatti ambientali, nonché le misure di mitigazione, altro addebito mosso appunto dall'amministrazione comunale che ha trasmesso il parere al Ministero, chiesta una revisione del progetto e anche valutazioni più approfondite. Quanto invece al Corriere Adriatico, come detto per quel che riguarda la cronaca, si dedica anche a quanto avvenuto ad Apecchio, sorprende i ladri in casa, li minaccia con il fucile, due malviventi entrati in una casa, rubano pochi monili, sono stati sorpresi dal figlio dei proprietari che ha imbracciato un fucile e li ha costretti alla fuga. Venendo invece all'arresto del Carlino, sempre per quel che riguarda il territorio, e la cronaca riporta quanto accaduto nella giornata di ieri a Cerasa di San Costanzo, dammi i soldi, poi spacca tutto in farmacia. Protagonista dell'episodio, un 53enne residente in zona che è stato rintracciato ed arrestato con l'udienza per la convalida e il processo per direttissima previsti per questa mattina. La titolare della farmacia racconta voleva 50 euro, gli ho detto di no ed è stato il caos. Successivamente l'intervento dei carabinieri che hanno proceduto velocemente all'identificazione dell'uomo e lo hanno bloccato. Veniamo adesso ai temi trattati nelle pagine pesaresi a partire dai cosiddetti affidi facili al centro di un'inchiesta, l'inchiesta che allarga il suo tiro, si legge sul resto del Carlino, al setaccio anche in cestini, gli sponsor come Bancomat e non ci sono i rendiconti. Una lettera al centro della perquisizione nella casa e negli uffici del vice sindaco Vimini l'ha inviata a Riviera Banca la funzionaria dell'ufficio Cultura indicando l'Ibam di opera maestra destinataria poi del finanziamento. Non si cercano solo i documenti che legano l'amministrazione comunale e le due associazioni. Occhi puntati anche sul murales della caserma pagato quasi 22 mila euro ad opera maestra la quale versò all'artista però soltanto 5 mila euro. Polizia giudiziaria che ha bussato anche alla porta dell'ufficio dell'attuale sindaco Biancani io non centro niente, precisa lui. Volevano l'accesso a tutto e il sindaco rivela di esserse ritrovato gli inquirenti alla porta del suo ufficio in comune. Mi hanno chiesto la disponibilità a farli entrare nei vari settori per cercare prove. Non devo però solo pensare all'indagine fa sapere Biancani ma anche a scuole, asili e frane in molte strade. Intanto la centrodestra piazza un nuovo affondo diretto all'ex sindaco Ricci che tace e non si assume la propria responsabilità secondo il centrodestra. Dall'altra parte il centrosinistra ritiene da parte del centrodestra indegno strumentalizzare chi collabora vale a dire gli esponenti dell'attuale giunta e anche i dirigenti comunali che hanno offerto piena collaborazione agli inquirenti. Il vice sindaco Vimini ha intanto in consiglio comunale illustrato la propria posizione riguardo alla rendicondazione delle celebrazioni rossignane che è stata eseguita in ritardo. Il ritardo è colpa del covid ha sostenuto lo stesso Vimini rispondendo ad un'interrogazione del centrodestra in quel periodo era appunto il 2020 e le priorità erano altre pensiamo che anche il ministero non abbia ricordato la scadenza proprio per l'emergenza pandemia. Situazione bollente a Pesaro anche riguardo al regolamento dei consigli di quartiere voto consigli di quartiere il centrodestra lamenta regole cambiate in corsa Redaelli di Fratelli d'Italia ritiene l'aumento della soglia di sbarramento dal 3 al 5% un vincolo che penalizza la partecipazione al voto. La replica di Bernardi del PD che tira in ballo quanto sta accadendo a Fano dove è il centro-sinistra a contestare il nuovo regolamento per la costituzione dei consigli di quartiere a Fano pur di evitare elezioni democratiche si ricorre al sorteggio a caso. Sogliando le pagine del resto del Carlino dedicate a Pesaro anche l'allarme lanciato dal centrodestra in particolare dall'ex candidato sindaco alle ultime amministrative Lanzi tirano massi dall'alto con il rischio di colpire chi cammina sotto e quanto accadrebbe al campus il consigliere comunale parla di ragazzini che salgono sulla scala antincendio dell'istituto Bramante Genga creando una grave situazione di pericolo tante le chiamate al 112 da parte dei residenti allarmati per il rumore molesto dovuto alle corse con i motorini truccati al campus questo è un altro elemento di allarme riportato dallo stesso Lanzi sul resto del Carlino poi passando ad altro tema il monumento dedicato alla figura di Tonino Benelli che verrà inaugurato domenica in largo tre martiri taglio del nastro alle 11 si tratta di un grande bronzo da 5 quintali prevista molta partecipazione probabilmente qualche problema al traffico il Corriere Adriatico nelle sue pagine dedicate a Pesaro si concentra invece in particolare sui lavori che riguardano la realizzazione della palestra Olivieri che ha comunicato l'assessore Pozzi sarà pronta a marzo quanto al ritardo Pozzi polemicamente facendo riferimento ad un'opera che è iniziativa della regione dice lo è anche il nuovo ospedale i lavori dovevano essere finiti a primavera in consiglio comunale l'assessore ha spiegato la ragione dei tempi dilatati intanto per quel che riguarda l'auditorium Scavolini riaperto di recente i problemi pare non siano finiti come è noto tempi molto lunghi per la realizzazione e anche un incremento notevolissimo dei costi le società sportive reclamano un utilizzo anche in quel contesto della struttura ma per il basket e per il volley il tema si presenta in salita manca infatti il parquet e comunque era già stato precisato dagli amministratori comunali che l'utilizzo per lo sport sarà comunque contingentato e poi l'intervento che è stato effettuato a Palazzo Mosca ingresso restaurato e nuova luce su questo scrigno il doppio intervento grazie a Lions su portale e portone della sede dei musei civici altro tema delicato non solo a Pesaro ma l'abbiamo visto di recente anche a Fano quello delle antenne a Pesaro si aggiorna il piano e il comune apre al confronto oggi illustrate le nuove richieste avanzate dagli operatori con le diverse ipotesi di installazione nei quartieri quanto invece al territorio torniamo a dedicarci al resto del Carlino e all'iniziativa annunciata a Monbaroccio dove l'infermiere di comunità costituisce un servizio a sostegno delle famiglie l'annuncio da parte dell'azienda sanitaria territoriale che parla di un ambulatorio che garantisce continuità di cure riducendo il ricorso a spostamenti fuori dal territorio la gioia all'annuncio del sindaco Petrucci a Vallefoglia e invece scatta l'operazione caditoie soltanto nel primo anno se ne puliranno 5.000 annuncia Marche Multiservizi e poi la polemica imbastita dalla consigliera regionale del PD Vitri a proposito del piano triennale delle opere pubbliche approvato in regione che trascurerebbe pesantemente la provincia di Pesaro Urbino opere per Talacchio briciole per gli altri afferma la stessa Vitri spostandoci invece ad Urbino diamo conto dell'annuncio arrivato ieri dal sindaco Gambini riguardo ai residenti nel capoluogo feltresco gli urbinati tornano ad aumentare rileva lo stesso Gambini al 30 settembre scorso infatti si è superata per 5 persone la soglia dei 14.000 abitanti un segnale positivo per l'entroterra così lo giudica Gambini la sua lettura dei dati però contestata dal consigliere comunale del PD Ugolini si nega la realtà rispetto ad un problema complesso l'incremento non convince il consigliere di minoranza l'idea poi della provincia autonoma è una deriva isolazionista rileva ancora lo stesso Ugolini intanto in consiglio comunale arriva la richiesta di uno sgambatoio per cani se ne occuperà la seduta del prossimo 25 ottobre sempre riguardo alla politica urbinata e anche l'iniziativa dell'ex parlamentare ed ex sindaco di Pesaro Giovannelli Urbino deve promuovere la pace questa è l'unica risposta ai drammi è la lettura che lo stesso consigliere di opposizione dà della mozione che è stata presentata in consiglio comunale in cui tutti si possono riconoscere afferma lo stesso Giovannelli la ricchezza di Urbino è dovuta proprio alla guerra ma era diversa lontana dai conflitti mondiali di oggi passiamo adesso a Fossombrone dove risorge il giardino di Diale Cairoli risistemati dalla giunta Berloni grazie ad un investimento di più di 300 mila euro erano in condizioni precarie da decenni dopo questo recupero si metterà a mano anche a Villa Carloni dietro le scuole medie informa ancora il resto del Carlino che dà conto anche della controreplica del PD a Fratelli d'Italia sulla viabilità subito l'intervalliva assieme alla pedemontana e la tesi sostenuta appunto dalla PD provinciale dell'entroterra si occupa naturalmente anche il Corriere Adriatico che per quello che riguarda la pagina dedicata a Durbino riporta quanto accaduto a Petriano anche in questo caso un incidente schianto fra due auto e la 118 soccorre tre feriti l'urto è avvenuto a Gallo i vigili del fuoco intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi ancora dalla Corriere Adriatico anche lo stanziamento di fondi per le attività delle scuole fermi e fa di Bruno il provvedimento adottato dall'amministrazione comunale che ha erogato 25 mila euro per sostenere appunto l'attività all'interno dei due istituti venendo invece a Pergola il bilancio della fiera del tartufo bianco pregiato che ha registrato un pienone soddisfatti gli operatori il maestro pizzaiolo Sorbillo firma un forno dedicato a Maradona mentre per quello che riguarda sempre Pergola ma in questo caso l'utilizzo degli spazi comuni il resto del Carlino dà conto della raccolta di firme con la quale numerosi cittadini sostengono la battaglia per tornare alla pedonalizzazione dell'auto subito dopo che si sarà conclusa la fiera del tartufo no alle auto in piazza quasi 600 le firme che sono state raccolte sempre in tema di eventi e prima di concludere la edizione del rally market che andrà in scena nel weekend dalla montagna alla spiaggia l'emozione del rally market sabato e domenica i tour in moto da Gabicce Monte ad Apecchio e fino al Nerone in pratica attraversata l'intera provincia e siamo così al termine di questo appuntamento con occhio ai giornali come sempre vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo buona giornata e vi ringraziamo a tutti i giornali